La Talpa 2023-2024, colpo di scena, ecco a chi verrà affidata la conduzione. Sembra proprio che la nuova edizione del reality La Talpa si farà. Dopo anni in cui Mediaset l'ha annunciata, per poi fare dietro front, pare proprio che nel 2024 rivedremo in onda questo appassionante game show. Se tutto andrà come previsto, La Talpa dovrebbe tornare nella primavera del 2024, su Italia 1. Un'edizione che dovrebbe essere completamente rinnovata rispetto alle precedenti. L'unica cosa invariata, sarà lo scopo principale del gioco, ovvero, quello di scoprire chi è La Talpa tra i concorrenti in gara. Per il resto invece, ci sarebbero in vista diverse novità. Va precisato comunque, che nulla è stato deciso. Non si sa nemmeno chi sarà a produrlo. Basti pensare che solo fino a qualche settimana fa, si pensava che fosse la fascino di Maria De Filippi a produrre il programma. Invece no. Niente da fare. Pare che la casa di produzione della nostra Queen Mary abbia rinunciato. Detto questo, c'è anche da pensare ad un'altra cosa non meno importante. Chi condurrà questa nuova edizione? Inizialmente si era fatto il nome di Gerry Scotti, ma a quanto pare, in queste ultime ore, in casa Mediaset hanno avuto un'altra idea. Candidata per la conduzione, sarebbe niente meno che, Vladimir Luxuria. Sarà proprio lei a condurre La Talpa? Perché no verrebbe da dire. La nostra Vladimir è piaciuta molto al pubblico, nel suo ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi. Senza contare che proprio l'Isola, potrebbe non andare in onda l'anno prossimo. Vladimir sarebbe libera da impegni, e quindi potrebbe prendere in mano questo game show. È vero che Luxuria non ha mai condotto programmi di un certo peso, però non le manca certo l'esperienza in TV. Soprattutto non le mancano la preparazione, e il talento. Insomma, l'idea di Mediaset di far condurre La Talpa a Vladimir Luxuria non sembra essere così campata in aria. Se davvero nella primavera del 2024 questo game show tornerà su Italia 1, lo farà dopo ben 16 anni dall'ultima edizione. Forse non tutti ricordano che l'ultima edizione del programma andò in onda nel 2008, quando trionfò Carina Cascella. Allora il reality era condotto da Paola Perego. Di certo, il ritorno in TV della Talpa, è uno di quelli più attesi dal pubblico. Non si capisce per quale motivo, in tutti questi anni, Mediaset abbia sempre fatto marcia indietro, e non lo abbia più trasmesso. Speriamo che il 2024 sia l'anno buono. Se fosse così, sarebbe la quarta edizione, dopo quelle del 2004, del 2005, e del 2008. Cosa ne pensate? Contenti del ritorno di questo programma? Vladimir sarà la persona adatta per condurlo? A voi i commenti! Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Cosa ne pensate?